Ciao a tutti gli amici di Vieny Racing, siamo pronti qui a Donington Park per affrontare una nuova tappa del mondiale Superbike 2014. Allacciate il casco e seguitemi in pista. Questa è una pista molto molto tecnica dove è difficile sfruttare tutti i cavalli di una superbike. Andiamo sul rettilineo di partenza dove arriviamo in quinta marcia senza sfruttarne a pieno la potenza per poi affrontare la prima cura molto bella e difficile perché è un raggio molto impegnativo. In seconda marcia per poi scendere giù dal discesone in quarta marcia, un discesone bellissimo, veloce con un cambio di direzione davvero molto molto tecnico dove puoi fare la differenza. Arriviamo nel punto più basso del circuito per una veloce curva destra da terza marcia, poi iniziamo a salire per una salita lunga con la moto inclinata completamente a sinistra dove sfruttiamo tutti i cavalli fino alla quinta marcia e la moto si muove. Qui c'è un cambio di direzione molto molto tecnico dove passiamo dalla quinta, quarta e terza marcia per affrontare un pezzo di pista tutto in terza marcia. Arriviamo ad affrontare il punto più alto del circuito in questa lunga curva destra dove è importantissimo uscire forte e lanciarsi bene nel rettilineo più lungo del circuito. Qualcuno riesce ad appoggiare la sesta ma poi subito si torna in seconda marcia per questa variante molto stretta e molto tecnica dove è fondamentale uscire bene per cercare di non farsi superare o superare chi è davanti a noi in questo tornantino che è uno dei più lenti del circuito da prima marcia. Una curva molto ostica ma a volte dà molte soddisfazioni quando riesce a superare. Ci rilanciamo in prima marcia fino alla terza per affrontare l'ultima curva dove di nuovo torniamo in prima marcia ed è una curva difficilissima perché è un raggio abbastanza largo, molto sconnessa e la prima sembra un po' corta. Qui è molto importante uscire bene per lanciarsi per il rettilineo ma non è facile e comunque abbiamo finito il nostro giro. Vi aspetto per il prossimo giro di pista Sepang. Mi raccomando continuate a seguirci su anyracing.com e fate il vostro pronostico sull'applicazione Superbike Anycap 2014. Ciao! Grazie a tutti!